Si, abbiamo avuto anche l'happicato e l'happicato di parlare di Walter Stace, Walter Stace. Io mi trovo d'accordo con un filosofo inglese, Walter Stace, lui dice l'happicato e l'happicato di parlare di Walter Stace, la verità è contro la felicità. Non possiamo avere tutti i due. Secondo me, Daniel dice che vivi tra la serenità e la felicità, lui scelde la verità. Lui è riuscita ad arrivare a una parte importante, una grande parte della verità. E' naturale che deve pagare un prezzo per questo. Sono contento che sua madre non l'ascolta mai. E' una grande parte della verità. E' una grande parte della verità e una piccola. Penso che ci sono due generi di persone, di essere umani, che vivono tranquilli. Le persone molto grandi e le persone molto piccoli. Le persone grandi, essere umani grandi come Rumi oppure Buda. Sembra che loro hanno risolto tutti i loro problemi. Come si avessero trovato la risposta a tutte le loro domande? Di conseguenza non soffrono nella vita. Come si avessero una piccola. Sono una piccola, una piccola. E' una piccola, che non sento nulla? Invece, i pezzi sono stati più subiti. Aspettano le persone. Come le persone anziane, che hanno l'analfabeto. Cele sono le botte? Il tuo botte è il botte. Il botte è il botte è il botte. Perché si lavorano in strada? Ma io ero l'indique, adobe è il botte che ci accostano. Allora le persone che si trovano tra queste due categorie di persone soffrono moltissimo Daniel fa parte delle persone che sanno molte cose ma non sono arrivata al livello di Buddha Sapendo che non potrei mai arrivare a quei livelli così alti ho sempre pensato, avevo sempre voluto e desiderato essere a livello delle persone analvabelle Quando sai una parte della verità questa conoscenza ti crea tantissime domande a cui non sai rispondere e questo ti fa succedere Ritengo che la serenità sia migliore della verità